Finisce con un pareggio, però le occasioni ci sono state anche nel finale, è mancato poco. Sì, diciamo che non abbiamo fatto un buon primo tempo secondo me, abbiamo dato il pallino del gioco spesso al Cassino, abbiamo avuto qualche occasione in ripartenza, però l'abbiamo sfruttata male, non siamo riusciti a distenderci come sappiamo fare di solito. Il secondo tempo è un po' meglio, siamo stati un po' più aggressivi, è stata una partita equilibrata, il pareggio è il risultato più giusto che ci possa essere, quindi vediamo il bicchiere mezzo pieno, un punto dopo due sconfitte ce lo prendiamo. Non era facile lì davanti, arrivavano palloni un po' sui lanci lunghi, però siete riusciti comunque a creare le occasioni. Sì, era una partita molto difficile, palloni puliti effettivamente non ce ne sono stati, anche né dalla nostra né dalla loro parte, era una partita abbastanza maschia, con tanti duelli, purtroppo non siamo riusciti a portare a casa l'intera posta in palio, però oggi va bene così. Si guarda già alla prossima provando a raggiungere di nuovo i tre punti. Sì, abbiamo bisogno di punti perché la classifica la vediamo tutti e dobbiamo recuperare terreno per toglierci dal basso, quindi sicuramente andiamo a Tivoli con un obiettivo di portare i punti a casa.